A Giarra il fine settimana si annuncia bollente su tutti i fronti per il completamento delle liste dei candidati al Consiglio Comunale. Ormai manca solo l'ufficialità della candidatura nella seconda lista di Città Viva insieme per il bene comune di Salvatore Cantarella. Riferimento CGL a Macchia di Giarra, che sta preferendo appoggiare Angelo Danna piuttosto che Salvo Vitale, candidato indicato dal direttivo cittadino del Partito Democratico di cui peraltro Cantarella fa parte. La scelta di Cantarella, che è stato consigliere comunale dal 2003 al 2008, sta facendo molto clamore. Sia sul fronte Città Viva che su quello CGL nessuna dichiarazione, ma l'ufficializzazione si attende a momenti. Tania Spitaleri invece tra sabato e domenica dovrà risolvere alcune questioni, completare la sesta lista innanzitutto e poi avere una risposta definitiva sugli uscenti. Tutti, anche la new entry Giovanni Barbagallo, saranno inseriti nella prima lista, Giarre 2.0. Ma quante deroghe potranno essere ammesse? Vittorio Valenti sarà nel contenitore gangemiano proposta popolare e questo è già assodato. E poi c'è il nodo Gianni Gulisano che resta da sciogliere. Lui vorrebbe ripresentarsi nella Giarre nel cuore di Alessandro Spina, dove è stato candidato nel 2013, allora si chiamava Movimento Civico per Giarre. Nella Giarre del cuore di Spina sarà della partita l'ex consigliere comunale Salvo Agatino Zappalà e poi c'è il vicepresidente del consiglio uscente Angelo Turrisi. Farà una sua lista doc con Nicole Mura oppure anche lui concorrerà in Giarre 2.0. E ultimo nodo da sciogliere, la candidata sindaco Spitaleri non ha ancora ufficializzato se sarà anche candidata al consiglio comunale. Dopo il weekend tutto dovrà essere più chiaro, però poi nelle ultime 72 ore prima della consegna delle liste che avverrà mercoledì alle 12, tutto potrà succedere. Già lunedì potrebbero consegnare lista e programma i grillini del candidato sindaco Francesco Candido che oggi incontreranno la cittadinanza in Piazza Arcoleo a partire dalle 17.